Musica Eccoci di nuovo insieme cari amici di Telemolise per l'ultima edizione del nostro telegiornale che continuiamo ad aprire con la pagina politica ed elettorale e con l'inaugurazione della sede del candidato alla carica di sindaco di Campobasso per il centrodestra Aldo De Benedittis nell'occasione ha voluto fare il punto sulla campagna elettorale e sui nodi centrali del programma Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni in apertura Pasquale Di Bello È un'onda lunga che più passano i giorni e più cresce quella del centrodestra a Campobasso e che sta portando decisamente sulla cresta come fosse un surfista sulla tavolozza il candidato sindaco della città capoluogo Aldo De Benedittis Per l'apertura della sede elettorale nella centralissima via Mazzini l'aspirante primo cittadino ha ricevuto un vero e proprio bagno di folla L'occasione è stata utile per fare il punto sulla situazione e sui primi giorni di campagna elettorale Per adesso la risposta è positiva, secondo me c'è entusiasmo in giro Apriamo questa sede a disposizione di tutti i candidati di tutte le liste che sono con me Quindi c'è questo spazio alle mie spalle dove i candidati potranno incontrare i loro elettori Fare conferenze stampa E ho avuto questa idea che mi piace e la porterò avanti fino alla fine Ecco, programma in costruzione, cerchiamo però di enucleare già qualche punto sul quale lei intenderà puntare I problemi di Campobasso sono molti e li conosciamo La viabilità, l'illuminazione, l'università, la cattolica, l'ospedale Cardarelli Anche se il comune non è competente in materia di Sant'Ara però comunque un sindaco Può essere da stimolo e fare da bungolo al presidente della regione, a chi di competenza Affinché le cose possano migliorare A dare supporto a De Benedittis tutti i segretari del centrodestra Con a capo il presidente della regione, Francesco Roberti Sintesi di una candidatura che credo che stia passando attraverso i cittadini Ma le associazioni, cioè è una persona che si fa voler bene con la sua aria moderata Quindi è un buon candidato Presente all'incontro, a testimonianza di come il centrodestra punti alla composizione di una filiera istituzionale monocolore C'era il vice segretario nazionale della Lega, Andrea Crippa Sì, è fondamentale la continuità e la filiera Quindi vincendo Campobasso, è chiaro che Campobasso avrà un'amministrazione che sarà ancora più efficace Rispetto all'interlocuzione col governo regionale e col governo nazionale E quindi invito i cittadini di Campobasso di andare innanzitutto a votare Perché poi chi non vota non si può lamentare E poi di scegliere persone che non hanno a cuore le poltroni o gli scranni Ma hanno a cuore l'interesse di questa città Che deve rinascere, deve diventare il centro vitale del Molise E il candidato alla carica di sindaco di Campobasso per il cantiere civico Pino Ruta Ha incontrato la stampa per parlare di edilizia scolastica No al trasferimento degli alunni della Dovidio a Selva Piana Durante i lavori di rifacimento dell'istituto Ha detto Pino Ruta non è funzionale ed è anti-economico Lo ha intervistato per noi Tonino Danese È uno dei temi più sentiti a Campobasso quello dell'edilizia scolastica Tema centrale anche nei programmi dei candidati a sindaco della città L'alfiere del cantiere civico Pino Ruta davanti alla scuola Dovidio Insieme alla sua squadra ha incontrato stampa e alcuni genitori di alunni Per ribadire la contrarietà allo spostamento di ragazzi e bambini dell'istituto a Selva Piana Come deciso dall'attuale amministrazione 5 Stelle durante i lavori di rifacimento Dovranno iniziare a breve i lavori di ristrutturazione Cioè di demolizione e ricostruzione Purtroppo ancora non c'è contezza su dove verrà trasferito il presidio E quindi dove gli alunni potranno andare dal settembre dell'anno prossimo La soluzione che è stata prospettata dal comune Che noi riteniamo non funzionale, antieconomica e peraltro anche tardiva È di spostare questo presidio su Selva Piana Dove sono stati già programmati investimenti per 3 milioni e mezzo di euro Per convertire una struttura produttiva che è inadeguata Ad edificio scolastico straordinario Ad oggi non ci sta ancora da quello che ci risulta Nel progetto esecutivo né un appalto di lavori E a questo punto chiederemo al comune chiarezza Su dove dovranno andare gli studenti Dove le famiglie dovranno in qualche modo programmare Da settembre dell'anno prossimo l'accompagnamento dei propri alunni Il candidato sindaco del cantiere civico Pino Ruta Poi sulla questione ha posto un altro interrogativo Il tema di fondo è se è stato fatto un avviso pubblico Per reperire anche a eventuali altri immobili Diciamo come forma di soluzione, tampone Per ospitare il presidio scolastico Pino Ruta ha infine sottolineato l'idea del cantiere civico Sull'edilizia scolastica a Campobasso Noi riteniamo che gli edifici scolastici Debbano rimanere nei raggi di influenza dei quartieri Quindi debbano rimanere in centro Quindi le scelte di programmazione Che ha fatto l'amministrazione comunale E di smettere alcuni presidi scolastici Come via Kennedy e via Amato Vendendole addirittura O addirittura chiudere via Roma O addirittura non utilizzare fabbricati esistenti Che possono ben essere riconvertiti Con somme probabilmente anche inferiori Per questo scopo si è completamente sbagliata Per esempio c'è una stazione ferroviaria vuota Che per tre anni I tempi dell'elettrificazione Non sarà utilizzata Non è utilizzabile per le ferrovie Che ben potrebbe essere funzionale C'è un distretto militare Che peraltro è completamente vuoto Anche lì si potrebbero investire questi soldi Di accordo Facendo di concerto con il Ministero della Difesa E intanto a Termoli Quando sembrava già tutto delineato Per una corsa a quattro Alle prossime elezioni amministrative È arrivata la notizia Di una quinta candidata Sulla quale sono confluiti In maniera congiunta Partito Democratico E Movimento 5 Stelle Dopo un tavolo tecnico Si parla di Manuela Vigilante La sinistra invece si unisce sotto il nome Di Marcella Stumpo E annuncia una raccolta firme Per la sua candidatura a sindaco Con Termoli Bene Comune Rete della sinistra Facciamo il punto con Francesco Di Giacomo Dopo la decisione di non appoggiare Il candidato sindaco Gio Militi I vertici dei pentastellati Hanno convocato un tavolo tecnico Nel quale in accordo con il PD Hanno espresso parere positivo Per il nome dell'avvocatessa Manuela Vigilante 46 anni Già presidente del consiglio comunale Con l'amministrazione Sbrocca E attuale consigliere di minoranza Vigilante Che è anche portavoce Della conferenza delle donne democratiche Per il Molise Si aggiunge così Alla lista degli aspiranti sindaci Che vede già concorrere in solitaria Oltre a già citato Gio Militi Con il movimento Voglia di Termoli Anche Daniela De Caro E Andrea Montesanto Rispettivamente con Termoli libera E costruire democrazia Il centrodestra invece Punta tutto Compatto Sul Nicobalice sindaco Termoli Bene Comune Rete della sinistra Nel frattempo Comunica che domani 4 maggio Dalle ore 18 Alle ore 20 In piazza Vittorio Veneto A Termoli Sarà possibile firmare Per la presentazione Della lista Che propone la candidatura Di Marcella Stumpo A sindaco di Termoli Invitiamo i cittadini A partecipare Alla raccolta firme Per consentire Al gruppo politico Che ha assicurato In questi 5 anni Un costante Ininterrotto impegno In difesa Dei comuni Beni E dell'interesse pubblico Di continuare Ad operare Per la costruzione Di una comunità solidale Aperta E plurale Pronta ad affrontare Le difficili sfide Dell'emergenza climatica Del diritto alla salute E della multiculturalità Questo è l'invito Rivolto dagli esponenti Del partito Alla cittadinanza Apriamo ora Una finestra Sulla carrese Di Ururi Che si è svolta Questo pomeriggio La corsa dei carri Tra i nati Dai buoi Hanno tagliato Per primi Il traguardo I giovani In una corsa Entusiasmante Alla vittoria Sono seguite Tuttavia Alcune contestazioni La commissione unica Di vigilanza Si è messa subito All'opera Per analizzare I filmati Della corsa E verificare Presunte Scorrettezze Ma vediamo Come è andata Nel servizio Di Francesca D'Amversa E' andato in frantumi Il sogno Del carro dei giovani Alla carrese Di Ururi Arrivati per primi Al traguardo Credendo di aver vinto L'edizione 2024 I giovanotti Arrivati secondi Hanno subito Presentato Un ricorso formale Dimostrando Che durante la gara Si erano presentate Delle irregolarità La commissione unica Di garanzia Si è riunita Per visionare I filmati E dopo circa tre ore E' arrivato il verdetto Squalificati i giovani La vittoria Della carrese Di Ururi E sarà segnata Al carro dei giovanotti E' stata una corsa Entusiasmante Che ha tenuto tutti Con il fiato sospeso Per tre chilometri e mezzo E proprio il parroco Don Michele di Legge Nel corso della benedizione Prima della partenza Aveva fatto cenno Ai valori di lealtà E ricordando ai carristi Di correre per il legno Della Santissima Croce Le strade addobbate Con i colori dei carri Bianco celeste Per i giovani Giallo rosso Per i giovanotti Un'area di festa In paese Fin dal mattino Che nemmeno la pioggia Era riuscita a spegnere Per una tradizione antica Che coinvolge Tutta la comunità Si tratta Della nostra festa Della nostra tradizione Identità Ci appartiene Appartiene a tutti Gli ururesi Appartiene agli ururesi Che sono qui E a quelli Che sono sparsi nel mondo Che sentono tanto Perché tutti noi Sentiamo il 3 maggio La festa del 3 maggio Che aspettiamo Di anno in anno Con grande ansia Ovviamente È uno strumento Sicuramente Per far conoscere Queste piccole comunità Per far capire E far capire A tutti coloro Che verranno Che in questi piccoli borghi Si vive bene Si vive tranquillamente Si vive in armonia E quindi Può essere un invito Per tutti coloro Che verranno A vedere La nostra corsa dei carri E voltiamo pagina La SEA Ha presentato I risultati finanziari Per il 2023 Durante una conferenza stampa Nella sua sede A Campobasso L'amministratore unico Della municipalizzata Stefania Tomaro Ha sottolineato Che la società Registra dati in positivo Aumenta la percentuale Di raccolta differenziata Nell'ultimo triennio Di circa il 20% E ha detto Contestualmente Si abbattono I costi di smaltimento Di 400 mila euro Il progressivo aumento Di percentuale Di raccolta differenziata Ha proseguito Tomaro Consente di combattere L'evasione Con un recupero Di 340 mila euro Nel 2023 Sea insieme al comune Di Campobasso Dal 2024 E fino al 2026 Darà seguito Ai progetti finanziati Dal PNRR A cominciare Dall'installazione Delle 31 ecostazioni Nel centro cittadino Gli investimenti Complessivi finanziati Superano Il milione E mezzo Di euro E parliamo adesso Di spopolamento Un tema Che affligge il Molise In particolare Le aree interne Ne abbiamo discusso Con il Vescovo di Trivento Claudio Palumbo Ciclicamente Si sente parlare Di rischio Soppressione Della diocesi Da lui Guidata Ha risposto Spiegando Il ruolo Che la Chiesa Svolge Sul territorio Con tanti problemi Un ruolo Di prossimità Fondamentale Nelle aree Definite Disagiate Sentiamo ancora Tonino Danese Una diocesi Millenaria Quella di Trivento Dal passato glorioso Attualmente A 58 parrocchie Con i sacerdoti La Caritas E i volontari Che operano In un territorio Costituito Da comuni Molto piccoli Alcuni anche Abruzzesi Il Vescovo Claudio Palumbo Parla di aree interne Di aree interne Un territorio Afflitto Dalla denatalità E dallo spopolamento Con una popolazione Sempre più anziana E con collegamenti Viari In alcune zone Non proprio dei migliori La nostra diocesi Dagli anni Fine anni 70 Inizio anni 80 Dove registrava 115 120 mila Residenti E scesa Poco più Di 40 mila Nei nostri giorni Ciclicamente Si sente parlare Di eventualità Che la diocesi Di Trivento Nonostante la sua storia Venga soppressa Palumbo Però fa una riflessione Concreta Che sintetizza Nel concetto Importante Di prossimità Che la chiesa Svolge sul territorio Con i suoi operatori Perché il territorio È molto ampio Come si diceva Quello che è La prossimità Richiede Che un vescovo Possa essere raggiunto Nel più breve tempo Possibile Da ciascun fedele Credo che questo Sia veramente All'attenzione Principale Degli organi Degli organi Superiori Quindi Non sono in grado Di fare previsioni Leggo la realtà Attuale Dove vedo Che questa presenza È una presenza Veramente Di speranza È una presenza Di conforto Di consolazione E anche Di attenzione critica In diversi comuni Della diocesi Si vota a giugno Tra cui Trivento Il più grande Ma anch'esso Con problemi Di spopolamento Il vescovo Ai candidati Lancia l'appello Di lavorare insieme Per invertire la rotta Lavorare insieme In rete Cioè Il campanile Rimane Un elemento Essenziale Perché il campanile Dice orientamento Il campanile Dice identità Il campanile Dice Cultura Però Non si può più Rimanere Ai piedi Del campanile Bisogna salire sopra E creare Ecco quel concerto I candidati Che arriveranno Che abbiano Veramente questa Rinnovino Potenzino Questa disponibilità Non è che non ce l'hanno Ma va potenziata Va calibrata Ecco Ma in questo senso Di visione Più di insieme E di visione Più alta Di visione Più elevata Che ripeto Riesce dall'alto A guardare meglio Quelle che sono Le situazioni Le urgenze Le necessità Ecco Delle nostre popolazioni Ora la cronaca È di quattro feriti Tra cui Una bambina Di due anni Il bilancio Dell'incidente stradale Che si è verificato Questa mattina A Isernia Ecco le immagini Sulla statale 627 All'altezza Di Fragnete Breccelle Due Le auto coinvolte La polizia municipale Sta ricostruendo La dinamica Del sinistro La circolazione Veicolare È stata chiusa Per un'ora Per consentire I rilievi Del caso Sul posto Anche i vigili Del fuoco Che hanno estratto Una donna Dalle lamiere I carabinieri Del comando Provinciale Di Isernia I feriti Sono stati Trasportati Dalle ambulanze Del 118 All'ospedale Veneziale Le loro condizioni Non sarebbero Comunque gravi È tornato In Molise Per raccontare La sua drammatica Vicenda All'università Khaled Delcaisi Il giovane Italo-palestinese Che lo scorso anno È stato arrestato Dalle autorità Israeliane Senza che venisse Formalizzata Alcuna Accusa Nell'incontro A Campobasso Ha ricostruito Le drammatiche Settimane in cella E gli abusi Subiti C'era per noi Enzo Luongo Interrogatori Che duravano Fino a 18 ore Consecutive Senza pause Con mani e piedi Ammanettati Ad una sedia Recluso per settimane In una cella Di un metro e mezzo Per due metri Senza alcuno Sbocco all'esterno Sono queste Le condizioni Di detenzione Raccontate All'Università Del Molise Da Khaled Del Caisi Il cittadino Italo-Palestinese Che di ritorno Da una vacanza Dai parenti A Betlemme Insieme alla moglie Molisane E al figlioletto Lo scorso 31 agosto Era stato arrestato Dalle autorità israeliane Senza che gli fosse mai Contestato ufficialmente Alcun reato Khaled Che ha documenti Sia italiani Sia italiani Che palestinesi È stato liberato Dopo un mese Ed è potuto rientrare In Italia Lo scorso 11 dicembre Ha partecipato Ad un incontro Testimonianza All'Ateneo A Campobasso Organizzato Con la collaborazione Dell'osservatorio Contro la repressione Dove ha dialogato Con Italo di sabato Mi sono state formalizzate Delle accuse E il fascicolo È rimasto secretato Per cui Né io Né tantomeno Il mio avvocato Abbiamo avuto L'occasione Di poterlo consultare Quindi Non sappiamo Su quali basi Si vada Sia stato giustificato L'arresto L'unica cosa Che sappiamo Che a conclusione Di questo Lungo periodo Di fermo Non c'erano Elementi Che potessero Giustificare La formalizzazione Di accuse Le condizioni Di detenzione Ha evidenziato Ancora il giovane Italo-palestinese Portano a una Deprivazione Sensoriale Trascorsi diversi giorni Senza luce solare Senza orologio E senza effetti personali Si comincia A perdere La cognizione Della realtà E del tempo Che passa C'è una privazione Dal sonno Ti viene impedito Di dormire In maniera Sistematica Khaled ha anche raccontato Che nella sua stessa Condizione Ci sono attualmente Migliaia di palestinesi Anche a livello familiare Ad oggi Ho due Cugini Che sono stati Arrestati Nello stesso periodo In cui sono stato Arrestato io Che si trovano Ormai da mesi In carcere In carcere Senza che Li fossero state Formalizzate Accuse Neanche Neanche a loro Per cui Ed è la situazione Di oltre 3.500 Detenuti Su un totale Che Conta oltre 10.000 In numero complessivo Di questi 10.000 3.500 Si trovano Senza che Ci sia Alcuna Accusa Formalizzata Senza che Ci siano Effettivamente Neanche una giustificazione Vera e propria Per gli arresti Perché si utilizza Questo mezzo Dei fascicoli Secretati Purtroppo Un mezzo Che viene utilizzato Come strumento Di Repressione politica Si può dire La comunità Di Cerro Al Volturno Ricorda Romina De Cesare Nel giorno Dell'anniversario Della sua scomparsa La ragazza Di 36 anni Venne uccisa A Frosinone Dal suo ex fidanzato Pietro Ialongo La notte Tra il 2 e il 3 maggio Del 2022 Questo pomeriggio È stata celebrata Una santa messa In suffraggio Nella chiesa Dei santi Pietro E Paolo Di Cerro Per il delitto Ialongo È stato processato E condannato A 24 anni Dai giudici Della corte D'assise Di Frosinone Voltiamo pagina Il senatore Costanzo Della Porta È stato ricevuto Al palazzo Del governo Di Campobasso Per un incontro Con il prefetto Michela Lattarulo E il questore Cristiano Tatarelli Al centro Del colloquio La situazione Della sicurezza Nella provincia Argomento Che è stato anche Oggetto Di un'interrogazione Parlamentare Sottoscritta Dallo stesso senatore Nel corso Dell'incontro È stato preannunciato Il prossimo incremento Dell'organico Della questura Di Campobasso E del commissariato Di Termoli È stata inoltre Evidenziata L'importanza Del processo Di ampliamento Dei sistemi Di videosorveglianza Che riguarderà A breve Anche la zona Al confine Con la Puglia Ed è stata Confermata La massima Attenzione Per impedire Tentativi Di infiltrazione Della criminalità Organizzata In provincia Di Isernia Finiscono Sotto la lente Di ingrandimento I gruppi di giovani Che si sono resi Protagonisti Di una rissa Scoppiata A venafro Secondo il prefetto Di Isernia Franca Tancredi Bisogna tenere Alta l'attenzione Sulle nuove Bande Di ragazzi Intanto Parte una nuova Campagna D'ascolto Nelle scuole Contro le dipendenze Anche in ambito Digitale Sentiamo Davide Gambardella Il disagio Che attraversa I giovani Potrebbe avere Una spia d'allarme E uno degli ultimi Fatti di cronaca Verificati In provincia Di Isernia A venafro Una rissa Che ha visto Per protagoniste Due bande Di giovani Una composta Da alcuni membri Di una comunità Nordafricana Ben inserita Nel contesto Venafrano L'altra da giovani Del posto Appartenenti Anche alle frange Ultrade Calcio Un episodio Che ha portato A denuncia La chiusura Di un locale Che non va sottovalutato Secondo il prefetto Di Isernia Franca Tancredi Alla presentazione Di Indipendentemente Nuova campagna D'ascolto Per i giovani Delle scuole superiori Di Isernia Di Venafro Annuncia Di voler aprire Un confronto Diretto Con i ragazzi Del territorio Insieme a forze Dell'ordine E alle altre istituzioni In campo È necessario Il confronto Con i ragazzi Soprattutto Con la parte Buona Positiva Che rappresenta La maggior parte Dei ragazzi Per lavorare insieme Per cercare Di capire Questo disagio Da che cosa Possa Possa derivare I ragazzi Possono Svolgere un ruolo Un ruolo fondamentale Anche perché Gli anticorpi ci sono Quindi potrebbero Loro stessi Cercare Di sollecitare I loro I loro pari Per evitare Che si Si possa Degenerare Queste Iniziative Servono proprio A favorire Ecco Lo scambio Di pareri Di consigli Di quello Che comunque serve In qualche modo Ecco anche A presentare Diciamo Il lato Anche amichevole Nella nostra istituzione Che non deve essere vista Solo come Diciamo Braccio armato Dello Stato Ma anche Diciamo Quell'istituzione Capace Di capire Far comprendere Ai ragazzi In particolare Qual è La giusta Direzione Una nuova campagna Che parte Dalle dipendenze Dunque Non solo quelle Da alcol e droga Ma soprattutto Dal digitale I ragazzi Oggi sottovalutano I rischi dei legami Che si possono creare In rete Ed è per questo Che vanno messi in guardia I confronti della rete I ragazzi Hanno comunque Un atteggiamento Che sia Come si può avere Nei confronti Di un soggetto educante Nel senso Assorbono Dei contenuti Dei modelli Delle forme Che poi portano Nella loro realtà Ma è un discorso È un soggetto educante Vicino a loro La famiglia La scuola La parrocchia Il mondo dello sport Con tutti i valori positivi Che determinano E si portano dietro Un altro discorso È immaginare Di trovare modelli All'interno di una rete Che un motivo Ce l'ha per esistere Ed è innanzitutto Di natura economica Perché non esistono I social Non esistono Le reti Se non esiste Un introito economico Ad esse collegato Questo è un aspetto Su cui bisogna Riflettere molto E continuano A campo basso I controlli Della polizia Disposti Dal questore Tatarelli Per prevenire E contrastare I fenomeni Di degrado Urbano Spaccio di sostanze Stupefacenti E reati Contro il patrimonio Negli ultimi giorni Alcuni equipaggi Hanno controllato Nella zona Di Vazieri Alcuni edifici Disabitati Trovando all'interno Di uno di questi Cinque giovani Tre stranieri E due italiani Che stavano facendo uso Di stupefacenti Sono stati trovati In possesso Di alcune dosi Di cocaina E hashish Sono stati perciò Segnalati Alla prefettura Per illecita Detenzione Di sostanze Stupefacenti La pioggia Incessante Non ha fermato I 300 partecipanti Al pellegrinaggio A piedi Da Pietra Melara A Castel Petroso Da 130 anni I devoti Dell'addolorata Percorrono A piedi Agli inizi di maggio Gli 80 chilometri Che li separano Dalla basilica minore Intitolata La patrona Del Molise Sentiamo Giuseppe Carriera 80 chilometri A piedi Percorsi In poco più Di 24 ore Con una sola sosta Tra l'una e mezza E le quattro e mezza Della notte Soltanto tre ore Di riposo Prima di rimettersi In cammino Così la comunità Di Pietra Melara In provincia di Caserta Rende omaggio Da 130 anni Alla vergine Addolorata Di Castel Petroso Circa 300 persone Hanno sfidato La pioggia battente La fatica del cammino Mosse dal valore Che attribuiscono Un evento Che si rinnova Dai primissimi anni Successivi Alla costruzione Del santuario Nella quale furono Impiegate maestranze Del paese E a cui contribuirono Gli avi Con le offerte La partenza La partenza all'alba Del 2 maggio Dopo la celebrazione Della messa Nella chiesa Dell'annunziata L'arrivo a Castel Petroso Nella prima mattinata Del 3 maggio Un traguardo di fede Che sarà completato Negli ultimi metri Percorrendo In ginocchio La distanza Tra le scale Sul sagrato E l'altare All'interno Della basilica Un atto di fede Eroico Nella sua semplicità E' uno spirito Di fede Di tradizioni Ma anche Di comunione E condivisione Perché Il peregrinaggio Da noi Fatto Tutti gli anni Con la partecipazione Che ci sta E' tutta una famiglia Qui a Castel Petroso Nel percorso Con tanti disagi Che ci stanno Specialmente quest'anno Che abbiamo preso Tanta pioggia Ma comunque Siamo contenti Siamo arrivati qui All'alba Sotto alla basilica Tutti insieme Con tanto spirito Di amore E di fede Ad accogliere i pellegrini Il rettore del santuario Don Fabio di Tommaso Da più di un secolo Questo popolo Di Pietra Melara Percorre Tantissimi chilometri Per arrivare Pellegrini qui Ai piedi De la Vergine Maria E questa loro fedeltà In questo pellegrinaggio E manifesta come sia Essenziale e fondamentale Per l'uomo Vivere una vita Nella fede Grazie anche a loro Che questo santuario Si è edificato Con le loro offerte Con i loro sacrifici Ed è sempre bello E comomente Vedere l'arrivo Dei pellegrini Tra lacrime Fatiche E sofferenze E arrivare qui carichi Di attesa e di speranza E questo popolo Come anche altri pellegrini Che vengono qui ogni anno Ci dicono quanto È bello E gioioso Poter essere accolti Da una madre Che consola Tanti cuori afflitti E sostiene I piedi Di coloro Che sono vacillanti Un secolo E oltre di storia Di devozione Condivise anche Con la comunità Di Pietra Melara Negli States Nel territorio comunale L'eremo di Frerejean O di Fradian Come dicono in paese Sempre raggiunto A piedi il primo maggio E il giorno dopo Il pellegrinaggio Verso l'altra parte Di quel territorio Del Matese Che per la religione Non ha confini di provincia Addolorata di Castelpetroso Come simbolo luminoso Di devozione E radice profonda Di fede E' stata presentata Nella sala consigliare Di Termoli La seconda tappa Della nona edizione Del Festival Del Sarà Dialoghi sul futuro Questa seconda tappa Si terrà a Bologna Il prossimo 15 maggio E la giornata Sarà divisa In due panel Nel primo Saranno presenti I rappresentanti Delle istituzioni Tra cui il sindaco Matteo Lepore E le aziende Che si confrontano Sulla responsabilità Sociale D'impresa Il secondo panel Invece Tratterà il tema Della capitale Italiana Della mobilità Sostenibile Sentiamo Dalila Catenaro Intelligente E' sostenibile Il nuovo paradigma Della responsabilità Sociale D'impresa Questo è il titolo Della seconda tappa Della nona edizione Del Festival Del Sarà Che si terrà a Bologna In un'era sostenibile La responsabilità sociale D'impresa Assume un significato Del tutto nuovo Le aziende Sono chiamate A rendere concreti I modelli organizzativi E di produzione Che riducano Nel modo più significativo L'impatto Sull'ambiente Un fil rouge Sarà proprio il confronto Che si terrà Il prossimo 15 maggio Tra le istituzioni E le aziende Per un continuo dialogo Proprio sul futuro Sostenibilità E mobilità Rimangono sempre Il tema centrale Da cui partire Per poter disquisire Siamo molto felici Di poter tornare A Bologna Quest'anno In un luogo Della cultura Primario A livello nazionale Salla Borsa Dove potremo ragionare Dei temi Cari al Festival Da un lato La sostenibilità Come nuovo paradigma Della responsabilità sociale D'impresa E poi ancora Il tema Della capitale italiana Della mobilità sostenibile Ormai termoli Verso la capitale zero Siamo fiduciosi Che il leader parlamentare Della legge Possa arrivare Entro l'anno A traguardo Notizia di questi giorni E anche il Movimento 5 Stelle Dopo la maggioranza EPD Ha intenzione Di controfirmare Il DDL Abbiamo una grande opportunità E di questo Voglio ringraziare Il Consorzio Industriale Della Valle del Bifermo E la Camera di Commercio Del Molise L'evento E la realizzazione Della Gigafattori Nel nucleo industriale Di Termoli Questo investimento Questo elemento Di innovazione Tecnologico Ci mette nelle condizioni Di portere Per raccontare A tutta la nazione A tutta l'imprenditoria Nazionale L'occasione Di investire qui Per poter creare Quello che è L'ecosistema Dell'automotive Del futuro Abbiamo accennato Anche alla tappa Termolese Che vedrà la sua luce In estate Nella cornice Del Borgo Antico Il 19-21 luglio In Piazza Duomo Realizzeremo La non edizione Del festival Quest'anno La presentazione Avverrà con un evento Il 29 giugno In Largo Tornola Una presentazione Con un talk Sul tema della plastica E con una performance Artistica Per quanto riguarda I nomi Sono nomi Di prima caratura Però vorrei mantenere Ancora Qualche elemento Di segreto Per non spoilerare Nelle prossime settimane Poi annunceremo Il programma definitivo Un fatto naturale Se pensiamo Quando si Si presentò La Fiat A suo tempo Poi ci sono Tante altre aziende Che In collaborazione Con la Fiat Hanno creato Un indotto industriale Nell'area del Cosib La stessa cosa Si sta verificando Adesso con Assisi Perché è un'azienda Completamente nuova Una tecnologia nuova Sono prodotti nuovi E quindi avranno bisogno Di altri partner Commerciali Industriali Logistici Per quelle che Saranno le attività Principali Che svolgeranno Assisi Quindi noi Registriamo Sì Registriamo Degli interessi Di aziende Anche molto importanti Che in collaborazione Poi con Assisi Svolgeranno L'attività Di produrre le batterie E di esportarle In tutta Europa Subsonica Domenica 2 giugno E i Bundabash La sera precedente Saranno i protagonisti Dei due grandi eventi live Nell'area di Selva Piana Per il Festival Dei Misteri 2024 Con l'ufficializzazione Dei concerti Che si svolgeranno Davanti allo Stadio Molinari Comincia a prendere forma Il programma Che l'amministrazione Comunale Di Campobasso Sta mettendo a punto In occasione Del Corpus Domini E che sarà reso noto Nei prossimi giorni Ci saranno Come sempre Anche spettacoli gratuiti Con artisti popolari Nel centro cittadino Da oggi Intanto Parte la prevendita Per i concerti Di Selva Piana Bene Era l'ultima notizia E termina qui L'ultima edizione Del nostro telegiornale Vi saluto come sempre Ringraziandovi Perché scegliete Telemolise Buonanotte Buonanotte